Musica Ciao io sono Aurora, oggi con il mio papà vi faremo vedere come avanzare la termica sul monte Magnodeno. Siamo sul monte Barro, facciamo quanta più quota e riusciamo, almeno 1600 metri. Ora iniziamo attraverso il monte Magnodeno. Usciamo dalla termica in una direzione che ci fa perdere meno quota possibile. Ok, partiamo. Siamo sul traverso. Alla base del monte Magnodeno vediamo una linea elettrica. Musica Nel caso non riuscissimo ad agganciare, dobbiamo tenerne in culto affinché non ci si chiuda l'avvenimento. Dobbiamo dirigerci verso le rocce che vedete qui di fronte. Il variometro inizierà a suonare solo quando saremo molto vicini. Fate molta attenzione, il vento su queste creste potrebbe generare qualche turvolenza. Musica A questo punto godetevi il filmato e girate stetti all'interno della termica. Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.